L'epistola numero 14 titola Non dobbiamo essere schiavi del corpo. Seneca riflette sull'importanza che ognuno di noi dovrebbe dare al nostro corpo e ovviamente come tutte le cose la virtù sta nel mezzo. Dovremo essere in grado di preoccuparcene, sì di prendercene cura, ma nel modo corretto e soprattutto senza eccedere. Infatti dobbiamo essere convinti non già di dover vivere per il corpo, ma di non poter vivere senza il corpo. Quindi significa forse che dobbiamo trascurarci? Assolutamente no. Essere in affanno in maniera eccessiva per tutto ciò che potrebbe capitarci a livello fisico è insensato perché diventeremo schiavi del nostro corpo. È giusto ascoltarlo, è giusto proteggerlo e curarlo, ma senza diventare ossessivi, senza cioè divenirne schiavi perché nuovamente non saremo più liberi e razionali. Il vero saggio sarà nuovamente dipendente non solo dagli impulsi del proprio corpo che abbiamo già visto devono essere soddisfatti, ma non dobbiamo neanche essere in affanno per tutto ciò che potrebbe succederci, per le malattie, per le torture e per la violenza. E infatti poi aggiunge l'uomo a cui il corpo sta troppo a cuore è portato a trascurare i valori spirituali. Cioè nel momento in cui io mi concentro troppo sulla mia corporeità, sulla mia fisicità, ecco che non darò più importanza allo spirito. Ed è quello che succede oggi. Siamo totalmente immersi in una società materialista che spinge ognuno di noi al consumismo, quindi all'acquisto compulsivo di beni e di oggetti e sappiamo da Montale che viviamo in una società che è satura, cioè che è piena di oggetti, ma in realtà i nostri bisogni interiori sono completamente diversi. Noi abbiamo bisogno dell'amore, dell'affetto, dell'amicizia di qualcuno con cui condividere le nostre giornate. Questo ci rende davvero felici, altrimenti i ricchi sarebbero tutti felici. Invece anche lì la droga, i suicidi sono all'ordine del giorno. Ciò significa che la vera felicità, cioè i nostri bisogni spirituali, non possono essere colmati dai beni materiali perché sono due bisogni diversi, il benessere fisico e il benessere psicologico. E la chiave di lettura della lettera viene subito dopo perché dice che i mali a cui noi possiamo dare incontro per il nostro corpo sono di tre specie, la miseria, la malattia oppure la violenza dei potenti. Naturalmente sono tre mali diversi. I primi due, quindi la miseria e la malattia, sono nemici insidiosi perché sono invisibili, non si vedono e quindi non ci preoccupano più di tanto, soprattutto finché non arrivano, perché una malattia, dice Seneca, spesso è silenziosa. È diverso invece quando notiamo gli strumenti di tortura e qui fa anche una carellata, un po' un excursus sulle torture dell'epoca. Quindi abbiamo anche una testimonianza storica riguardo al male fisico. Se una persona vede con i suoi occhi gli strumenti di tortura sarà più portata invece a preoccuparsi e quindi magari anche a piegarsi alla volontà dei potenti. Pensa al carcere, alla croce, al cavalletto, al palo che viene cacciato attraverso il corpo così che spunti fuori dalla bocca, alle membra che vengono strappate dai carri spinti in direzioni diverse. Non bisogna stupirsi se anche il più saggio, colui che è molto avanti nel percorso, cada e soprattutto si sottometta alla volontà dei potenti, perché di fronte allo strumento di tortura, pur di evitare la sofferenza, è chiaro che ciascuno di noi verrà spinto per quell'istinto di conservazione, a mettere da parte i propri ideali e a sottostare quindi alla volontà altrui. Alla loro vista cade vinto anche chi avrebbe potuto sopportare il dolore e così noi siamo abbattuti e sopraffatti soprattutto da quei mali che si presentano con ostentazione di mezzi esteriori. E quindi è chiaro quando un male è evidente mi preoccupo, però ci sono anche i mali che non si vedono invisibili, quindi virus, batteri, malattie, tutto ciò che non mi spaventa nell'immediato. Se io saprò dare però il giusto peso mi curerò, ma senza esserne ossessionato. Il terzo tipo di male è quello legato alla violenza dei potenti, cioè il male che potrei ricevere dal mio prossimo, quindi non viene dall'interno bensì dall'esterno. Anche in quel caso Seneca offre dei consigli, non tanto su come risolvere quel tipo di violenza, ma proprio per evitare di subire questo tipo di violenza. Il saggio non provocherà mai le ire dei potenti, è meglio vivere nascosto. È il Latte Biosas di Epicuro, vivi nascosto, teniti lontano dalla politica, dagli affari. Cioè il vero saggio capisce di poter essere comunque utile alla società, e quindi qui già si capisce che Seneca si sia ritirato dalla vita attiva, dalla vita politica, quando si è allontanato poi da Nerone, e però il vero saggio continua ad essere utile alla collettività. Sappiamo bene quanto fosse importante per un romano contribuire al benessere della res pubblica, anche da casa, quindi anche attraverso la realizzazione di opere letterarie che spingano l'uomo a riflettere sui veri valori che ognuno di noi dovrebbe avere e soprattutto per fornire dei modelli degli exempla per spingerlo poi a compiere egregie cose, quindi per poter poi mettere in atto quei valori di cui si nutre continuamente. Quindi di conseguenza l'ozium letterarium diventa davvero fondamentale, il che non significa che una persona non possa partecipare attivamente alla vita politica o essere preso dai propri affari, però il problema è che più sarò coinvolto nella società, più sarò invischiato nelle questioni pubbliche, maggiori poi saranno le preoccupazioni e sicuramente mi attirerò le ire di qualche nemico, di qualche potente politico che la pensa diversamente perché appartiene al partito opposto, quindi è chiaro che prima o poi potrei subire una violenza, un rapimento, un assassino. Seneca va più a fondo e parla di buonsenso in realtà ed è un discorso che sembra anche cozzare con quello che sentiamo anche alla televisione rispetto alla nostra cultura moderna, però in realtà c'è del vero in ciò che sta dicendo. Vediamo adesso come si possa essere sicuri dal volgo, anzitutto asteniamoci dal bramare ciò che esso brama, perché quando io desidero ciò che vuole anche l'altro è chiaro che scoppia una guerra, scoppia una competizione, una rivalità, è meglio dice quindi tenersene alla larga. Di nuovo quando ho il necessario per poter vivere è sufficiente, non ho bisogno del superfluo, abbi addosso il minor numero possibile di quegli oggetti che sono quasi un invito alla rapina, non c'è nessuno che uccide solo per uccidere. Poi va avanti e dice che nessun brigante assale il viandante povero, ma soltanto quello ricco. Se ci pensate è un po' un discorso di buonsenso, chi di noi andrebbe in una via malfamata dove siamo sicuri di trovare dei ladri pieno di gioielli, con l'orologio, con il Rolex, con gli anelli, con le collane. Ora è vero, ognuno di noi direbbe io devo essere libero di girare in qualsiasi luogo senza essere aggredito e su questo siamo tutti d'accordo. Non siamo noi colpevoli per aver istigato l'altro a rapinare, nessuno può sentirsi in diritto di derubare un'altra persona. È lo stesso discorso che potremmo fare per i vestiti di una ragazza o di una donna, come deve andare in giro vestita, ci mancherebbe altro. Nessuno può permettersi neanche di sfiorarla con un dito solo perché è vestita in maniera particolare, ci mancherebbe altro. Però qui Seneca ci invita ad usare il buon senso. Se io so che lì mi posso scottare, evito addirittura il rischio. È questo che ci sta dicendo, cioè è una prospettiva diversa. Non ci sta dicendo che non possiamo, come in questo caso, fare attività politica oppure essere invischiati nei traffici commerciali. Semplicemente che chi lo fa sa di andare incontro a dei mali maggiori, perché ricordiamo che il tema di fondo è non essere schiavi del proprio corpo. Quindi come posso fare non per risolvere i mali del corpo, ma come posso addirittura evitarli. È come se ci dicesse, certo che posso anche passare con il rosso, però rischio, meglio non farlo. Quindi meglio evitare proprio. Questione di buon senso. Se so già a priori che in una zona o in un punto rischio, evito quella zona. Questo lo dico per far notare quanto siano attuali queste lettere e quanto gli autori latini dovrebbero essere studiati ancora oggi. Quindi certo da un lato costruiamo una società migliore, basata sui veri valori, una società inclusiva, aperta, però nel pieno rispetto delle regole, perché non c'è libertà senza regole, ma anche contemporaneamente evitare i pericoli. Quindi il vero saggio è anche accorto, nota il pericolo e sta lontano. E citando un antico proverbio, Seneca dice, è bene evitare tre cose, l'odio, l'invidia e il disprezzo. Pertanto il consiglio è quello di tenere il giusto mezzo, in medio stat virtus. Quale soluzione propone Seneca? Beh, molto semplice. Ad filosofiam ergo confugendum est. Rifugiamoci dunque nella filosofia. La filosofia diventa l'unico vero conforto e soprattutto l'unica arma di difesa del saggio, non solo di difesa ma anche di offesa. Nel senso che io posso comunque aiutare gli altri facendoli riflettere, indicando loro la via e soprattutto aiutandoli, accompagnandoli in questo cammino continuo di perfezione. Cioè possiamo sempre cambiare, migliorarci, ma lo facciamo solo se siamo disposti ad aprire la nostra mente, se possiamo essere aperti alla discussione, al dialogo, se non abbiamo preconcetti o pregiudizi e soprattutto se siamo disposti a parlare di qualsiasi cosa, di qualsiasi argomento, senza timore di porre delle domande. L'importante è darsi delle risposte e scegliere sempre in autonomia. Non adeguiamoci mai al pensiero unico, usiamo la nostra testa e decidiamo in piena autonomia, non dobbiamo lasciarci influenzare dagli altri. Seneca attribuisce un ruolo importantissimo alla filosofia, addirittura sacro, perché dice che il nome della filosofia rimarrà sempre sacro e venerabile. E fa anche un esempio pratico, quando Catone dovete scegliere se contrastare Pompeo o Cesare, in realtà, dice Seneca, chiunque lui avrebbe poi scelto, in ogni caso sarebbe stata una perdita per lui, perché in realtà avrebbe dovuto comunque nominare uno dei due come proprio padrone. Poi c'è la domanda esplicita, il vero saggio si deve impegnare nella politica? Abbiamo già risposto prima, vale la regola che valeva anche per Epicuro, late biosas, cioè vivi nascosto. E infatti cosa dice qui Seneca? I nostri stoici, esclusi dalla vita politica, si ritirarono in solitudine per praticare una più nobile forma di vita e stabilire le leggi degne del genere umano, non sottoposte all'arbitrio dei potenti. Quindi il vero saggio non va a turbare le credenze, le usanze del popolo, non è che si impone come qualcuno che è superiore, non è un moralista sul piedistallo, è semplicemente una persona esperta che ha compreso quali siano i mali dell'uomo, che offre anche un cammino, un percorso per evitarli e soprattutto per perfezionare se stessi. Poi chi vuole è libero di seguirli e chi non vuole non lo fa. Fa una riflessione ancora più importante, se nemmeno la vita ritirata è del tutto sicura, quanto più grave sarebbe il pericolo se uno fosse molto attivo e intraprendente? Il saggio in tutte le cose guarda non al risultato ma alla bontà della decisione presa, quindi indipendentemente da come poi andrà a finire, non mi interessa l'obiettivo finale, il risultato, non importa dove arriverò, non è importante la meta ma il viaggio, il percorso che io faccio perché mentre cammino che mi perfeziono, che mi modifico e che raggiungo uno stadio sempre maggiore di saggezza e di conoscenza perché capendo le dinamiche mi terrò allora anche in disparte e saprò evitare i pericoli. Devo soltanto pensare a fare la scelta migliore per me, poi l'esito non lo potrò sapere, posso sbagliare oppure no, quando sono di fronte a un bivio, una scelta non so come andrà a finire perché la meta è in balia della fortuna e io non posso sapere dove andrò a finire perché non sta a me decidere, non è in mio potere. Conclude con la solita massima, forse di Epicuro, forse di Metrodoro ma non è importante chi l'abbia detta, bensì il contenuto, il messaggio gode maggiormente delle ricchezze chi meno ne sente il bisogno ed è chiaro quando io sono portato a sentire un bisogno non necessario quindi quando riguarda il superfluo ecco che io sto già sbagliando, quando ci preoccupiamo per una cosa che non è ancora successa, quando voglio una cosa che però in realtà non mi serve, sto già sbagliando perché non vivo il presente, mi affanno e mi preoccupo per conquistare qualcosa o per evitare qualcosa o che non mi serve o che forse mai si verificherà e in questo modo non vado soltanto a danneggiare il corpo ma soprattutto lo spirito perché ricordiamoci che mente e corpo sono collegati, quando sono stressato, quando sono preoccupato poi ne risento anche fisicamente. Di nuovo, late biosas, vivi nascosto, stai attento, evita i pericoli e soprattutto evita tutte quelle situazioni inutili che non ci servono, liberiamoci dal superfluo, la società ci dice l'esatto contrario, dobbiamo riempirci di oggetti, riempirci di desideri materialistici, devo comprare, devo avere l'ultima cosa firmata, devo apparire, non essere. Chiediamoci perché siamo costantemente infelici e proviamo sempre quel vuoto interiore che ci tormenta di giorno e soprattutto di notte quando siamo soli, che ci costringe a volere sempre di più ma che ci lascia dentro un grande vuoto. Alla prossima!